Ieri mi sono imbattuto in un volantino che girava su Twitter di un'organizzazione che si chiama Cash at Italia, David Cash at Italia, che è l'organizzazione dei ragazzi e delle ragazze ebrei che sono della comunità LGBT e il volantino dice che appunto Cash at Italia ha deciso di non partecipare ai Pride nazionali a causa dei crescenti timori di aggressioni dovuti al clima d'odio sviluppatosi attorno alla nostra partecipazione. Quindi una minoranza di persone che sono minoranza in quanto ebrei ma sono minoranza anche in quanto persone LGBT hanno deciso di disertare la manifestazione dell'inclusione, dell'accettazione, dell'orgoglio di sé, la manifestazione che vive e si anima contro l'odio in tutte le sue forme ma che forse ospita dell'odio. E' una contraddizione insopportabile la quale io non intendo prestarmi. Ed è di questo che voglio parlarvi oggi che è davvero il 14 giugno 2024. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan. Una storia al giorno, dal lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Comincio con una comunicazione di servizio. Ebbene sì, ieri ho sbagliato data. Alla fine dell'introduzione ho detto che era il 14 di giugno, invece era il 13 di giugno. Oggi è il 14 di giugno, ma insomma me l'avete fatto notare in tanti. È successo, credo sia la prima volta, in 350 episodi di questo podcast. Comunque ho già preso delle contromisure. Ho messo a Roma in particolare, adesso vi sto parlando da Milano, ma insomma mi sono messo sulla scrivania a Roma un calendario per non commettere più di questi errori. Insomma, perdonatemi, spero che sia una cosa soltanto veniale. Ma visto che sto parlando di comunicazione di servizio, ne approfitto anche qui per chiedervi di abbonarvi al podcast. Perché è il modo migliore per seguirmi. Purtroppo io non riesco a essere particolarmente costante quanto all'orario nel quale vado online. Ci sono giorni che devo fare il podcast molto presto la mattina perché magari devo andare in aula, in commissione appunto a orari piuttosto antelucani, come si dice. E ci sono invece momenti in cui posso prendermela un pochino più comoda. Quindi l'uscita dell'episodio del podcast non avviene sempre alla stessa ora. Ma se voi pigiate sul campanello, sia su Spotify o su YouTube o sulle altre piattaforme di podcast, c'è sempre un modo per abbonarsi attraverso l'abbonamento, che naturalmente è assolutamente gratuito, però ricevete un messaggio, una notifica, un qualcosa che vi dice che l'episodio è uscito. Quindi potete ascoltarmi. Ma veniamo a noi. Ieri, devo dire, ho fatto un'uscita sui social e poi anche un'agenzia per annunciare una decisione che ho preso, che è quella di non essere presente al Pride quest'anno. Io di solito vado al Pride di Milano e sono tanti anni che ci vado, probabilmente da quando abito a Milano, cioè da più di trent'anni. E però quest'anno non ci andrò perché ho scoperto, insomma mi sono imbattuto in questo comunicato di David Cash at Italia, che è l'organizzazione queer dei ragazzi e delle ragazze ebree che appunto fanno parte della comunità LGBT, che hanno detto che quest'anno non parteciperanno a nessun Pride in tutta Italia perché non si sentono al sicuro. In realtà devo dire che di questa cosa avevo già avuto sentore perché una mia cara, carissima amica di tanti anni che si chiama Gabriella mi aveva mandato un video girato negli Stati Uniti con questo ragazzo che era appunto al Pride con una maglietta con la stela di David con i colori arcobaleno che veniva per lo più attaccato diciamo verbalmente ma poi anche aggredito fisicamente proprio per essere alla parata con questo simbolo evidentemente fatto oggetto di odio. E però poi il comunicato di questo gruppo queer di ebrei italiani della comunità appunto LGBTQI plus mi ha veramente molto colpito perché il pensiero che qualcuno possa sentirsi minacciato al Pride e che possa sentirsi minacciato in quanto appartenente a una minoranza è per me una cosa completamente incomprensibile, controintuitiva si dice. La comunità LGBTQI plus è una comunità di persone che vivono, hanno vissuto e vivono tuttora la discriminazione proprio vivissima sulla loro pelle e che chiedono di essere incluse per quello che sono dicendosi orgogliose di quello che sono. I am what I am è uno degli inni del Pride E allora il fatto che si possa pensare che questa comunità che così ha la ricerca dell'accettazione, dell'inclusione, del rispetto e che da tanto tempo chiede anche una legge contro l'odio che le viene rivolto contro possa tirar fuori odio nei confronti di qualcun altro è una cosa che mi fa diventare veramente matto perché il Pride è proprio la festa dell'orgoglio di se stessi è la festa dell'accettazione di tutti, della bellezza di essere chi si è e il fatto che si possano attaccare delle persone, della comunità in quanto ebrei è particolarmente orribile perché innanzitutto gli ebrei proprio come noi sono stati da sempre discriminati poi ci ricordiamo benissimo che nei lager nazisti c'erano anche i triangoli rosa abbiamo condiviso anche quella storia poi qui parliamo di cittadini italiani di persone che sono ebree che sono anche parte della comunità ma che sono cittadine italiane e alle quali addebitiamo in un certo senso le azioni di un governo di un paese straniero che probabilmente loro neanche approvano cioè non lo sappiamo se singolarmente prese queste persone siano pro o contro le azioni del governo di Netanyahu e questo non giustifica ammassarle tutte dentro un gruppo indistinto e considerarle responsabili di qualcosa perché stanno in quel gruppo quindi non individualmente ma massificarle e criminalizzarle tutte insieme aggiungo anche un'altra cosa Israele avrà mille responsabilità mille colpe io non voglio entrare nel merito in questo episodio di questo podcast non è questo il merito però Israele è l'unico paese della regione medio orientale nella quale le persone della comunità LGBT vivono sicure nella legalità essendo riconosciute vivono pacificamente liberamente Israele è l'unico posto in tutta quella regione nella quale si celebra il pride ora io dico uno sulla crisi israelo-palestinese può pensarla come vuole ma il pride è la celebrazione appunto dell'orgoglio omosessuale bisessuale, transessuale l'orgoglio della comunità ora la piattaforma del pride dovrebbe occuparsi soltanto di questo e da questo punto di vista Israele è assolutamente inattaccabile inserire dentro il pride altre questioni e pensare che tutte le persone soltanto poiché sono LGBT la pensino su tutto allo stesso modo è assurdo è una pretesa assurda che spesso le piattaforme del pride hanno di darsi una piattaforma generalista e politica decidendo che tutte le persone soltanto sulla base del loro orientamento sessuale della loro identità di genere devono pensare allo stesso modo su milioni di cose su tutto secondo me siamo ai limiti diciamo della follia dopodiché ripeto fare una sacrosanta battaglia contro l'omo lesbo bitransfobia e accettare manifestazioni di antisemitismo anche questa è una cosa assolutamente lunare che va veramente respinta che non si può tollerare in nessun modo e di conseguenza come dicevo ho deciso che io al pride quest'anno non ci vado o meglio se ci vanno quelli di David Cashet ci vado anch'io e sfilo con loro se loro non ci vanno non ci vado nemmeno io perché se il pride non è un posto sicuro per loro oggi non sarà un posto sicuro per qualcun altro domani perché oggi ci sono i nostri fratelli e sorelle ebrei e domani sarà qualcuno che la pensi in un modo diverso o che esprime se stesso in un modo diverso e io trovo che questo sia veramente inaccettabile dunque mi pare che la soluzione migliore sia questa ripeto spero che i ragazzi e le ragazze di David Cashet Italia cambino idea e quindi che ci siano e allora davvero sarò contento di unirmi a loro altrimenti vorrà dire che il 29 giugno quando ci sarà il pride a Milano io sarò a casa ecco io mi fermo qui è venerdì quindi noi ci sentiamo lunedì buon fine settimana avete ascoltato la versione di Ivan un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo